L'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale ha pubblicato i dati condotti in 20 siti distribuiti sull'intero territorio regionale rappresentativi della tipologia costiera interessata dalla cosiddetta alga tossica. Ad oggi l'unica spiaggia dove è risultata presente l'alga in maniera scarsa con appena 100 cellule sul litro sulle acque di fondo è quella di pugno chiuso in provincia di Foggia. Sul resto dei siti, dal tacco della Puglia fino al Salento, la presenza è pari a zero. Quindi le spiagge pugliesi ad oggi sono tutte bandirina bianca e sicure per i bagnanti. I dati rilevati in linea con quelli degli ultimi anni sono la risultanza dei primi 15 giorni di analisi da inizio giugno e continueranno fino a settembre. Saranno pubblicati con cadenza quindicinale. Ricordiamo che l'alga tossica predilige le acque calme, calde e bene illuminate. Di solito si sono riscontrati casi di malessere transitorio nei bagnanti con riniti, faringiti, bronchiti, febbre e dermatiti, in concomitanza di elevate concentrazioni dell'alga nelle acque e sui fondali e soprattutto dopo le mareggiate che favoriscono la formazione di aerosol marino che può diffondere la tossina nell'aria.